Eccoci qui, riprendiamo la linea dallo studio a Sanremo, proprio con un'altra protagonista di questo festival, di questa edizione 2023 ed è Shari. Ciao, ciao a tutti! Shari che per la prima volta sale sul palco dell'Ariston e sicuramente avrà tante cose da dirci perché l'emozione è alle stelle, immagino di sì. Sì, sono emozionatissimo, le farfalle allo stomaco. Dici qualcosa sul tuo brano che si chiama Egoista, dacci un po' di informazioni utili così almeno ci orientiamo meglio nella tua esibizione. Ma io in tutti i miei brani cerco di mettere l'emozione, un po' di profondità, un pizzico di intensità e spero di farvi emozionare. Sicuramente l'emozione sarà tanta dal tuo lato ma anche dal nostro da seguire questo evento e anche ascoltare le voci dei giovani cantanti come te, insomma però hai fatto tanta esperienza dal 2015 in televisione, insomma quindi arrivare qui a Sanremo per te cosa vuol dire? Insomma è un punto ulteriore a quello che hai già fatto o un punto d'arrivo o qualcosa che hai sognato nel tempo? Ma intanto è una sorpresa enorme perché sono comunque giovane, ho 20 anni, però sì è davvero una bella esperienza, sono davvero grata e onorata di essere qui e spero che sia un bel punto tra tutta la mia carriera. Assolutamente, in genere insomma gli artisti che arrivano a Sanremo poi possono ovviamente godere anche di una carriera insomma ulteriore e migliorativa anche perché consideriamo che il pubblico di Sanremo è molto vasto, al di là dei giovani ci sono anche persone che magari non conoscono la musica emergente, non in questo caso, magari però ci sono situazioni ovviamente, situazioni magari che non sono note a tutti. Quindi sostanzialmente il tuo arrivo a Sanremo come trovi anche Sanremo sei massata in Liguria anche se in realtà noi siamo siciliani quindi è una domanda un po' fuori tema però tutto sommato la Liguria così ventosa in questi giorni ci ha reso Liguri anche noi siciliani in qualche modo. Bene, cosa prevedi dopo il festival anche se forse non so se è presto dire qualcosa, insomma dici tu? Beh allora intanto sono stata in Liguria, sono stata a Camogli e devo dire molto bella, detto questo cosa prevedo? Ho cercato di non darmi troppe aspettative, spero solo di cantare molto bene e poi quando è finito vi faccio sapere come è andata. Assolutamente sì, allora abbiamo parlato in Liguria ma di Sicilia invece sei mai stata nelle nostre terre? Sicilia sono stata, ero con una nave da crociare in vacanza con i miei genitori, sono passata di lì, tipo la tappa che fa la nave, è questo. Perfetto, allora magari ti aspetteremo in qualche concerto oppure in qualche ospitata, chissà, ce l'hai già uno? No, che c'è un amico che si chiama Cusumano che è siciliano. Magari ci ascolta, lo salutiamo no? Ciao. Ok, ti ha ascoltato, ci ascolterà sicuramente quindi ciao all'amico di Sciari e facciamo l'in bocca al lupo ovviamente a te e ti regaliamo qualcosa della nostra terra. Quindi abbiamo ovviamente da mangiare perché noi siamo assolutamente rinnovati anche per il cibo e sono ovviamente dolci tipici siciliani che potrai ovviamente aprire e mostrare ma magari condividere, chissà. Ecco, dolci tipici siciliani che non so quanto dureranno ma forse in questi giorni sarà un po' difficile visto che magari bisogna tenersi un attimo diciamo in forma. Ok, allora ci farei sapere com'è andata l'assaggio, ok? Yes, dopo vi scrivo un messaggio. Perfetto, grazie mille a Sciari, vi ridò la linea.